i giochi che abbiamo raccolto durante il mese passato qui al Teatro Politiama, qui alla mostra dell'artigianato un ringraziamento ad Arnibas, a Triscele, a Radio TV Azzurra, a Nino Parrucca, gli artigiani, a Babu Ratale, la Befana e a Elsa un applauso! Ci vediamo l'anno prossimo! Ciao Babu Ratale, ciao Epipagna, ciao a tutte e due! Adesso è pronta per aprire davvero il nostro spettacolo facciamo davvero un grande applauso a quest'artista tutta palermitana perché è una voce straordinaria adesso ci darà modo veramente di apprezzare le sue doti canore, facciamo un applauso a Silvia Amighetti che tratto dal film Frozen ci farà ascoltare in diretta assolutamente live all'alba surgerò facciamo un applauso e che inizi anche la musica grazie 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 Abbiamo sempre due in casa E' un po' che è lento Perché sta a fare un po' Può sembrare tanto inove Ma io lo affronterò E' un po' che non la perderò mai E' un po' che non sta a fare un po' con me Perché vorrei farlo Però cambierà l'identità E vivrò, si vivrò Per sempre in libertà Ma se è qui, il posto mio E lo scoprirò E lo scoprirò E lo scoprirò E lo scoprirò E la realtà Il resto è storia ormai Che passa e se ne va Si lo so, si lo so, come insegniamo però E che poi, che poi, all'alto assurgerò E che non fa una riflessa che E che poi, che poi, si prenderò E che oggi credo appartiene a me mi è piaciuto Babbo Natale come ha ballato sul palco grazie e ha dimostrato che Babbo Natale è bello arzillo ancora io ho più di cento ma sono ancora un ragazzino anche Epifania è giovane così nell'animo come Babbo Natale forse anche di più sai Babbo Natale perché noi donne rimaniamo giovani sempre ricordatela questa cosa grazie